Stiamo giocando con più confidenza, abbiamo avuto un po' di lavoro insieme, ovviamente abbiamo il nuovo Americano, le cose stanno bene per noi, è stato un buon gioco, ma abbiamo due più questa settimana, stiamo giocando con molto alto stima, abbiamo il nuovo Americano che stiamo inserendo, però abbiamo altri due partiti da giocare questa settimana, allora testa bassa e pedalare. A livello personale, 24 punti, 16 rimbazzi, migliore in campo questa settimana. Qual è il tuo gioco? 24 punti, 16 rebounds, MVP del gioco? Il gioco? Mi sento che sia stato un buon gioco per la squadra, perché non avevo mai capito di nessuno di questo dentro del gioco. Stavo cercando di fare le cose, o di fare il mio lavoro per aiutare la squadra per essere in una posizione per vincere, ma vedo che sia stato un buon gioco. E, onestamente, durante la partita non mi sono neanche reso conto dei punti o rimbalzi che avevo preso. Io pensavo alla squadra, ora che guardo le statistiche mi rendo conto di aver giocato una bella partita. Quarta vittoria consecutiva per Cristoya. Com'è cambiata la squadra dell'arrivo di Trishon Feche? Ok, è il nostro quattro vittorio in un paio. E ha Trishon help to change things? For sure, for sure. Um, this is a league where, you know, due americans are very important to a basketball team and, you know, we had some early troubles and Trishon just came in and, you know, helped us in our process of getting better and four wins. So, obviously, he's been a good addition, but we continue to work while we have them, you know. We hope to get some more wins. Sì, certo. Specialmente nell'A2 dove, come sapete, ci sono solo due americani allora avere un americano in meno fa una grande differenza. Avere Trishon aiuta tanto e poi il fatto di poterci ora lavorare in palestra con lui ci aiuterà sempre a migliorare. E con lì un altro impegno ravvicinato? C'è fuori lì un altro avversario? Il primo livello come si preparano una partita del genere in tre giorni. Ok, next Wednesday, this Wednesday, you're playing against Forlì where I'm beaten first in the league and after two days, two days of practice, how do you get ready for these kinds of games? Um, of course, we, we, it's Lega Duet, so everyone knows about every team. and we know that Forlì is a good team so we know that we have to turn the switch on tonight. Enjoy this win and, you know, just with the coaches and, you know, they're gonna prepare us a game plan and then we're gonna try to follow it and put our heart in our execution to it and try to come out victorious again. And, you know, we're gonna have a good team. stasera ci godiamo la vittoria e gli allenatori già stanno preparando il game plan per la partita di mercoledì e noi ci mettiamo impegni o cuori e vediamo che succede mercoledì